Voci.fm, il sito delle voci. ...insegno, gran premio del doppiaggio numero 10, buon compreanno! Grazie, magari avessi solo dieci anni io. Dieci anni è un traguardo bellissimo, perché all'inizio era un bellissimo sogno quando ne parliamo la prima volta, poi bisognava strutturarlo. Non è facile, però la cosa bella era gratificare l'intera categoria del mondo del doppiaggio che è un banto internazionale, assolutamente internazionale. Erroneamente si pensa che si doppia solo in Italia. No, in Italia siamo i migliori, che è diverso. Si doppia in tutto il mondo, magari qualcuno in Europa dà più spazio alle versioni originali, ma vengono doppiati dappertutto. Ovviamente meno nei paesi anglosassoni e infatti non vedono i film europei, o comunque hanno poco successo. È come un libro, è una traduzione, quando uno si vanta, Umberto Eco tradotto in 126 lingue, uguale, un film viene tradotto in tante lingue, per quanto è importante che poi in Italia sia stata la patria del doppiaggio negli anni 20-30, per salvaguardare la lingua italiana, si è deciso di non chiamare Gianni, ma Giovanni. In qualche modo è da lì nato tutto. Noi di Voci.fm ci siamo sempre. Le novità di questa decima edizione? La novità è una che è molto elegante, questa è stata sempre molto elegante, ma quest'anno siamo andati sulla qualità, perché volevamo sottolineare l'importanza della qualità anche del doppiaggio, che in certi casi si sta perdendo perché c'è troppa velocità di esecuzione. Allora qualche cosa, bisogna essere onesti intellettualmente, è dire che certe cose sono fatte di fretta, non bene, non per colpa sempre nostra, ma perché ti arriva una settimana prima la puntata di quella serie importante di andare in onda, il venerdì la devi tradurre, adattare, doppiare, missare, andare in onda, per cui certe volte veramente si rischia il marasma vero. Però puntiamo su questo, infatti c'è un'orchestra diretta da Paolo Vivaldi e ospiti i grandissimi musicisti, direttori d'orchestra come Andrea Guerra, e faremo sentire la finestra di fronte, Michalizzi con il bellissimo tema dello chiamavano Trinità, che è anche poi il finale di Django, che io ho avuto il piacere di doppiare Jamie Fox, Stefano Mainetti, Claudio Simonetti con i Goblin, insomma si punta veramente sulla grande qualità. Questa tipologia di scena si comincerà anche in maniera elegante, facendo sentire una voce bella, antica. Il sogno, il sogno, la magia, la qualità e gli atmotiv di questa bellissima edizione. Senti, poi ce n'è un'altra di novità molto importante, quest'anno sei candidato come doppiatore, miglior doppiatore protagonista per La forma dell'acqua, dove sei un colonnello molto cattivo. Sì, cantivo, acido, era difficile, non era facile, perché aveva molte sfaccettature nella sua cattiveria, non era il cattivo tipico, magari mi è capitato di doppiare, eccetera, ma era un cattivo con mille sfaccettature. E siccome ogni anno c'è la commissione che ci occupa delle nomination, quest'anno mi è stato detto, Vino, non puoi continuare perché tu vuoi fare il premio, eccetera, a non essere candidato, altrimenti non gratifichi neanche le persone con le quali tu lavori. Ho detto, va bene, ok, fatelo, e io però mi tolgo assolutamente da qualsiasi tipo di commissione, qualsiasi tipo di controllo, perché voglio che sia trasparente, ma comunque resta una bellissima festa, perché è una scusa meravigliosa per sottolineare questo mondo, che va, ripeto, dai traduttori, dagli adattatori, il fonico di sala, l'assistente, il direttore, il fonico di mix, c'è tutto un mondo straordinario che veicola i film e li rende certe volte anche migliori, e allora magari se dovessi vincere non saprei, anche perché i miei concorrenti sono straordinari, c'è Pannofino, son Denzel Washington, bellissimo, c'è Desando sull'ora più buia, che ha fatto un lavoro su Churchill, meraviglioso, Riccardo Rossi su tre manifesti ebbe in Missuri, insomma, non lo so, sinceramente mi imbarazzerebbe un po', lo accoglierei bene perché votano i miei colleghi, per cui significa anche una gratificazione da parte loro, se non dovesse essere così, faccio il respiro di sollievo e dico, ok, consegno io il premio a un collega, io sono, mi piace più fare i regali che riceverli, io per carità sono uno che ha la faccia come quello che sapete, però mi imbarazza sempre un po', mi piace più farli i regali che riceverli, ma noi ricevo, rimango senza parole, l'unico caso, l'unico caso. Anche a Natale immagino. Senti, un'ultima cosa, visto che abbiamo parlato della forma dell'acqua, un film bellissimo, immagino sia piaciuto anche a te, quanto influenza il lavoro del doppiatore, se il film piace o no? Ti coinvolgi oppure sei troppo concentrato tecnicamente, quindi non te lo gusti più di tanto? È vero, non te lo gusti più di tanto, però capisci che stai facendo una grandissima cosa, poi quando vanno i colleghi a vederlo, non dicono ma chi l'ha doppiato, quella ha ancora la soddisfazione più grande, ma sono orgoglioso di un film che dovrà uscire fra poco, che sarà anche candidato a sei club d'oro, Viggo Mortensen, come non l'ho mai visto, questo Green Book è straordinario, pazzesco, italo americano, parla siciliano, si è ingrassato 15 chili, insomma un Viggo Mortensen che non ha nulla a che vedere con niente di quello che ha fatto finora, grande difficoltà, diretto da Mario Cordoba, questo sarà una bella soddisfazione perché è venuto fuori qualcosa di inaspettato. Io cerco sempre di modificare la mia voce a seconda di quello che faccio, anche lo stesso Viggo, sul signo degli anelli c'è una vocalità, sulla promessa dell'assassino parla russo ce n'è un'altra, sono sempre io ovviamente, però insomma cerco di non rendere sempre una voce simile come Sasha Baron Cohen di Borat, piuttosto che Ugo Cabret, c'è un'alice, è diverso dalla sua storia di interpretazione, così Michael Shannon che sto seguendo da qualche anno e mi piace molto, su Elvis e Nixon, su questo la forma dell'acqua, su Fahrenheit, insomma è un bellissimo attore particolarissimo che può fare tutto e il contrario di tutto e in questo film è stato bravo e credo di avergli ridato quell'animo che lui ha messo di acidità, di cattiveria, di sudditanza, di prosopopea, c'era un po' tutto. Grazie a voi, grandissimi, affezionati di voci.fm da parte mia, da pieno insegno, grazie, grazie davvero. Auguri, buon Natale, buon Natale, detti da un pino, valgono eh, ciao. Chi lavora con la voce è su voci.fm Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.